Ciao, scusa, come ti chiami? Valeria. Appena finito, sei la prima e maturanda praticamente del liceo classico tradizionale. Com'è andato l'orale? Benissimo, era un po' agitata, però poi comunque mi hanno messo a mio agio, è andato bene, tutto bene. Senti, iniziato con il greco e il latino, raccontaci un po' dell'esame. Inizialmente quindi abbiamo presentato questo elaborato di greco e latino, quindi il confronto tra un testo greco e un testo latino e poi siamo passati appunto alla seconda parte, diciamo, il testo italiano, quindi diciamo l'analisi di questo testo italiano e poi successivamente comunque un documento inerente alla terza parte, ricollegata poi alle materie diciamo secondarie. Avete parlato anche del Covid-19? Sì, del Covid-19, delle cittadinanze di questo periodo e di questi cambiamenti. Senti, sei ancora agitata? Sì, ancora un po'. Senti, ti lasciamo andare, ma com'è stata questa notte che hai trascorso? Raccontaci. Inizialmente non ero tanto agitata, poi però diciamo stamattina quando mancavano poche ore, un po' d'ansia, sì, preoccupazione perché essendo la prima comunque tutto diverso, tutto cambiato, però poi comunque l'ansia è passata. In bocca al lupo. Grazie. Erika Acciaio, del liceo Mill, l'indirizzo scienso umano è la prima ad uscire, la prima ha effettuato l'esame questa mattina. Ti senti già più libera? Libera, sì, tantissima. Senti, com'è andata? Bene, molto bene. Pensavo, ero partita molto agitata, ma è stato un clima sereno. L'esame che è durato alla fine un'ora? Sì. Circa un'ora? Sì, sì, ma poi di me non ne sono resa conto. Quante materie hai dovuto affrontare? Quasi tutte, sono riuscita a caricarle tutte per fortuna, sì sì, ma è stato più semplice di quanto credessi. La commissione è stata buona? Sì, sì, per fortuna. Senti, e la notte come l'hai passata questa notte? Diciamo, prima degli esami, agitata? Un po' agitata, però... Hai dormito? Eh, diciamo, sì e no. Hai avuto la adrenalina. Senti, adesso dove andrai a festeggiare? Non lo so, però a festeggiare sicuro. Hai chiamato già la mamma e il papà? No, però no. Prima l'intervista. Senti, ma questo esame dunque è durato un'ora. Si è partita? Qual è la materia che... Eh, prima l'elaborato ovviamente di scienza umana e poi mi hanno proposto un testo italiano e poi ho iniziato io con le materie umanistiche a collegare tutto e anche quelle scientifiche. È andato bene, sì sì. Avete anche parlato dell'emergenza coronavirus. Sì, anche quello, ovviamente, sì, sì. È stato anche fatto una domanda. Sì, sì. E anche l'alternanza. L'alternanza a scuola lavoro. Sì, sì. L'alternanza a scuola lavoro. Com'è andata questa alternanza a scuola lavoro? È stata una bella esperienza, sì sì. Due anni. Siamo andati alla casa di riposo del Ventis e alla Sielo, una scuola infanzia. E la didattica a distanza? Eh, la didattica a distanza è stata un'esperienza nuova. Diciamo nuova. Sì. Non mi sembra ti sia piaciuta tanto. Non tanto, no. Rispetto alla scuola no. Meglio la scuola. Senti, adesso che farai? Progetti? Eh, io sì. Dovrei prendere scienze della formazione per poi, appunto, fare scuola materna. Ah, quindi fare l'insegnante, giusto? Sì, sì, sì. Sei già una ragazza che sa quello che vuole. Per fortuna. Eccola, Martina Chiodi, appena maturata. Abbiamo anche i fiori. Come ti senti? Felice. Sei liberata? Libera, sì sì. Sì. E questa notte come l'avevi passata? Proprio angosciata. Insonne. Addirittura non hai dormito. Senti, com'è andato questo esame? Bene, bene. Che ti hanno chiesto? Quali sono stati gli argomenti? Mi hanno chiesto per l'elaborato di matematica e fisica e successivamente una poesia di Ungaretti. E poi abbiamo trattato un quadro del realismo con, di conseguenza, il positivismo in storia e filosofia. Avete parlato, perché abbiamo anche intervisto altre ragazze, del coronavirus e dell'emergenza? Sì, ho trattato durante il collegamento dell'articolo 32 della Costituzione, quindi il diritto alla salute. L'ho collegato poi con le materie di chimica e anche latino e quindi sì, ho trattato questo tema. Come ti sei preparata per questo esame? È stata insomma un'esperienza particolare? Non ti aspettavi ovviamente prima febbraio, prima che arrivasse questa emergenza Covid, di fare un esame sonorale? No, sicuramente no. È stata un'esperienza comunque alla fine costruttiva e tutto quello che comunque ci è stato proposto è stato rispettato. Quindi i professori ci hanno anche molto aiutato in questo percorso sicuramente. E poi c'è stata insomma anche la didattica a distanza, che esperienza ti ha lasciato? Diciamo che è stata una didattica molto strana e sicuramente molto più complessa e difficile rispetto comunque a una didattica in presenza. Meglio la scuola in presenza? Sì. Indubbiamente, sempre adesso che farai? Vorrei provare il test di medicina. Ah, quindi già ridichiare? Sì, sperando di rientrare. Arianna Catucci, allora l'esame è appena finito, come ti senti? Sollevata. Sollevata, perché questa notte come l'avevi passata? Bastanza agitata? Ah, non troppo. L'ho finita, l'ho passata quasi ripassando, però poi ho dormito un po', stavo tranquilla. L'avevi studiato? Sì. Ti hai preparata? Senti, com'era la commissione? Mi hanno messo loro a mio agio, sono stati molto bravi nel farlo e molto sorridenti, quindi quello che conta per me, quindi è stato andato molto bene. L'esame è durato un'oretta, vero? Sì, un'oretta. E che cosa ti hanno chiesto? Che cosa hai portato? Prima ho portato un elaborato di matematica e fisica, quindi della materia di indirizzo, dopodiché ho analizzato un testo poetico che mi è stato dato dalla commissione. Dopo mi è stato dato uno spunto, nel mio caso è stato di chimica, e da lì ho ricollegato tutte le materie a quel tema. Quindi nel mio caso era la clonazione e ho ricollegato tutto a tutte le altre materie. Ovviamente si è parlato anche del coronavirus. Nel mio caso no, però ho parlato di cittadinanza e costituzione e ho parlato anche della mia esperienza di alternanza scuola-lavoro. Com'è andata? Che esperienza è stata? È stata una bella esperienza, molto positiva, dalla quale ho imparato molto e mi sono anche molto divertita. Senti, la prima cosa che farei? Va addormento, riprende, recupera il tonno. Senti, il tuo futuro invece? Già le chiare? Lettere moderne. Ah, ecco. Da uno scientifico a lettere moderne. Va bene, ci può stare. Qui hai anche tutta la famiglia, sei contenta? Sì, sì. Mamma, papà, sorella? Sì, tutti. Molto contenta.